benvenuti a me ombri in un nuovo episodio su the legend of zelda breath of the wild dlc numero 1 in quello precedente lo abbiamo iniziato questo dlc e direi che non potevamo partire in modo migliore perché a parer mio abbiamo trovato l'armatura più bella del gioco almeno fino a questo momento e mi riferisco a quella spettrale composta da elmo da spettro armatura da spettro che poi è il torace e i gambali da spettro ed è anche utile perché ci aumenta l'attacco notevolmente se abbiamo equipaggiato tutti e tre i pezzi è davvero fantastica a mani basse la più bella ripeto parer mio personale poi mi direte la vostra qua sotto nei commenti per quanto riguarda invece la nostra prossima sfida ovviamente se vi siete persi questo episodio qui lo potete recuperare ci sono le playlist ovunque nella descrizione e anche nelle schede a proposito invece della prossima mini sfida che dovrebbe essere questa esatto stiamo procedendo dal basso verso l'alto abbiamo la reliquia crepuscolare l'elmo della principessa del crepuscolo che compare spesso nei racconti dell'avventura dell'eroe del crepuscolo quest'elmo può essere trovato tra le rovine di un tempio affondate nelle acque del fiume celestiale allora qui ho da dirvi due cose uno mi sono accorto che il fiume celestiale è un fiume presente nel gioco quindi almeno abbiamo una zona in cui cercare dobbiamo cercare di essere invece un pochettino più chirurgici dell'altra volta altrimenti rischio di girare a vuoto per ore come ho fatto l'altra volta però d'altra parte non sapendo dov'è vado un po a sentimento però intanto abbiamo come elemento il fiume celestiale poi parla di rovine di un tempio affondate quindi cercheremo delle rovine simile rovine nell'acqua non lo so bene dove le possiamo cercare comunque vedremo tra un istante seconda cosa invece questo me l'avete detto voi quindi vi ringrazio perché io altrimenti non lo sapevo l'elmo della principessa del crepuscolo sarebbe l'elmo di midna che è una principessa presente in twilight princess la principessa non una principessa non avendo giocato twilight princess altrimenti non l'avrei saputo quindi grazie per i vostri consigli come sempre allora naturalmente non abbiamo la posizione dell'elmo questa è semplicemente la posizione di quel diario che ci dà tutte le informazioni che abbiamo già letto e il fiume celestiale è qua parte da qui non so se parte da qui vediamo dove arriva ok continua qua quindi è molto molto ampio molto lungo come fiume qui già potrebbe esserci qualcosa adesso non sembrano proprio delle rovine però intanto mi segno questa posizione qua è un altro fiume quindi niente qua c'è un lago non penso sia qua più che altro perché qui c'era già l'altro pezzo continuiamo ad andare in su queste sembrano delle rovine effettivamente segniamoci anche queste allora di qua no abbiamo il fiume taimon che si congiunge poi col fiume celestiale andiamo in su qui non so esattamente quale fiume si è intorno al castello ah beh qua c'è un altro fiume il fiume ilia ok quindi si vanno a congiungere per cui di qua non ci interessa più quindi abbiamo più o meno questa parte qua da esplorare questa allora me l'unica cosa che ricorda molto delle rovine è questa posizione qua questa non lo so io partirei da qua così poi ci spostiamo nella zona che ritengo meno probabile andiamo prima qui se la troviamo subito sarebbe il top veramente il top veramente il top vediamo per il momento vi lascio tutto poi come l'altra volta se non la dovessi trovare nel breve insomma entro 15 20 minuti allora inizierò a fare come ho fatto un'altra volta a girovagare per ore mamma che bella questa armatura quindi comunque qui si parla di un elmo che dobbiamo recuperare non so se ha qualche se avrà qualche effetto particolare comunque un elmo quindi non hai tutto il set vedremo sono molto curioso poi mi direte sempre voi faccio sempre riferimento a voi se ha una qualche utilità particolare magari c'è anche scritto direttamente nell'elmo eh però intanto metto le mani avanti così sa qualche effetto strano che non c'è scritto me lo dite voi e così io poi vi leggerò e vi ringrazierò nel prossimo video allora se c'è una cosa che ho capito è che bisogna andare in giro con il calamitron attivo grazie mi fa allora tempio dei saggi ah non c'ero nemmeno mai venuto qua ok è dove ci sono queste zone qui e vedete che non c'è il nome perché ancora non ci sono entrato che anche se ho sbloccato tutta la mappa le varie zone poi bisogna andarci personalmente per sbloccarle per far apparire il nome ecco non vedo niente ah sì anche questa comunque sta bene se si illumina è più bella ma vabbè poi arriverà il momento anche di potenziare la spada eh ragazzi tranquilli faremo anche quella missione lì allora qua ci ho quasi creduto però intanto apriamo anche questo opale ok vai ricaricati a posto era ancora semi distrutta dall'altra volta non mi abituo mai al fatto che la spada suprema esaurisca la sua energia soprattutto non mi abituo mai allo scudo iglia che si rompe quello ancora peggio però è giusto che che si esaurisca perché altrimenti rendeva praticamente inutile l'utilizzo di altre armi certo non è poi l'arma più forte però un'arma indistruttibile vabbè allora qui c'è no stavo per dire questo lo tira nell'acqua e mi fulmina sono veramente dei macellai questi sono quasi impossibili da schivare quel cacchio di arco si muovono molto velocemente io faccio una fatica immonda grazie braccio mi sei stato di gran aiuto questa la apriamo alla barda allora io continuo a non vedere nulla queste sono armi arrugginite perché sono state nell'acqua giustamente abbiamo tutto il tema abbiamo più tempo dell'altra volta l'altra volta dovevamo trovare tre pezzi questa volta soltanto uno però bisogna trovarlo poi faremo i conti dopo però per lustro bene perché mi è già capitato con l'armatura di aver perlustrato una zona e poi era lì e non avevo guardato bene quindi prima di cambiare zona e di andare in quella che ci siamo segnati laggiù voglio assolutamente vedere tutto magari tipo sull'albero sembra figo ma penso a questo punto io ci guardo ma se c'è uno schegno io già potrei vederlo anche da qua cioè anche dalla dalla distanza se è molto lontano si vede lo stesso no non ci pensavo neanche non mi è stata la barda fa schifo togli niente ah una tre no volevo fargli la foto sto per dire fargli la foto vediamo se me l'ha presa vabbè sarà per la prossima adesso ispezioniamo meglio la parte a sinistra perché non ci sono cioè ci sono stato ma non ho guardato benissimo controlliamo anche dietro no qua mi sembra aver visto tutto però in realtà no questi li rompo così almeno capisco che ci sono passato oddio in realtà non lo capisco perché non si vede poi il barriere rotto ma insomma andiamo per ordine mi sa che l'abbiamo trovato elmo di midna indossato da midna quando combatté con un eroe leggendario per salvare hyrule eroe leggendario si infelisce la link immagino è un oggetto raro ma ok fatta ebbè questa volta è stata più rapida più veloce però avete visto prima io da qui non l'avevo visto quel forziere soltanto se si passava da da questa parte di qua lo si vedeva comunque era insomma difficile vederlo secondo me dal di qua va bene comunque l'abbiamo trovato allora difesa armi ancestrali 23 23 è il numero che indica la mia difesa c'è quanta difesa dà questa però è 34 ci sta che si possa potenziare e cos'è poi quel numero lì? faccio confusione con i numeri perché c'è scritto 18 qua questo so che l'ho potenziata tre volte ci sono tre stelline e il numero 18 cosa mi indica? qui è 8 qua è 4 anche questa è una cosa che mi chiarirete qua voi nei commenti sono arrivato a fine gioco senza saperlo cioè credo si riferisca al livello questo è a 8 a 2 stelle questo è a 5 a 1 stella però boh 2 stelle 8 va bene questo è 7 non ho capito vabbè comunque questo è l'elmo di Midana ragazzi uh allora esteticamente mi piace mi piace il fatto che sia tutto di roccia così e semi rotto anche qui credo che avrà una motivazione per questo fatto qui quindi si va di spiegarmi qualcosa in più volentieri anche se in realtà non fatemi spoiler su Twilight Princess che non si sa mai fanno il remake ci gioco non mi fate spoiler però o è rotto perché è stato qui un sacco di tempo oppure perché è in battaglia è successo qualcosa non lo so e poi mi piace anche la capigliatura che non so se è da donna in effetti beh ci sta elmo di Midna comunque è bello mi piace però e io mi tengo questo ragazzi allora direi che per questo video è tutto è stato breve ma intenso direi molto molto bello mi piacciono un sacco queste mini sfide mi piace andare proprio alla ricerca dell'oggetto e allora prossima verdi vesti da fata eeeh tre pezzi prossimo questo bene mi raccomando spoliciate commentate iscrivetevi attivate la campanellina tutti gli incontri tra cui il messaggio li trovate qua sotto nella descrizione e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.